YAMI FACO MUTTA FACCA Pucciao a tutti ragazzi, sono Cassi e benvenuti in questo nuovo video! Siamo qui oggi in questo piccolo video nel quale avrei voluto dire molte news, ma in realtà ne ho solo due Secondo, secondo, secondo Allora ragazzi, la prima notizia che vi volevo dare è che il computer è stato spedito martedì Ora non so quando uscirà questo video Oggi è lunedì, quindi sto dicendo è stato spedito perché penso che nel momento in cui l'aveva caricato sarà già stato spedito E quindi è già in viaggio nei luoghi più remoti dell'assistenza dell'acer E spero tornerà il più presto per poter riprendere a fare video La seconda cosa che è la più importante per la quale infatti faccio questo video È che il 21 di febbraio, dalle 3, quindi alle 15 fino al 17 circa Io, Tizio, Maranga, Fox, Cap, Alessio2405, Alvi Rapper, Anlix, Marci, Kenoya e altri youtuber, come vedete da questo screen Faremo qui appunto questo piccolo raduno Quello che volete fare se volete partecipare e seguirvi soprattutto Vi lascio in descrizione il link dell'evento su Facebook Basta lasciare un partecipa per sfarci sapere che ci sei E quindi ci ritroveremo il ricordo il 21 febbraio 2015 in Piazza Duomo dalle 3 in poi Ma niente, sarà un raduno proprio dedicato al cazzeggio più totale E niente, se vedete ci farà molto piacere E sarà un momento per appunto cazzeggiare e scambiare 4 chiacchiere tra di noi Quindi niente ragazzi, vi ricordo di passare nell'evento qua sotto e lasciare partecipare se ci sarete Inoltre vi ricordo di passare in tutti i social, quindi Facebook, Instagram, Ask, Kik Tutto quello che trovate qua giù in descrizione ha anche il TS nel quale mi trovate sempre se volete scrivermi E ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti E saremo contenti di schiaccare di... Quando mai riesco a fare un video senza un po' di dislessia?